L'ombra della magia nera fra Ronaldo e la moglie. La relazione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez ha catturato l'attenzione dei media. Alcuni sostengono che stia attraversando un momento difficile e sia in bilico. Ora emerge una nuova versione della storia, riportata dai giornali spagnoli, che coinvolge Dolore Savero e presunti rituali di stregoneria. Il quotidiano extra riporta l'accusa secondo cui la madre di CR7 avrebbe utilizzato la magia nera per separare il figlio dalla modella argentina. L'astrologo Moni Vidente afferma che Dolore Savero avrebbe compiuto tali rituali per far sì che Georgina faccia le valigie e metta fine alla relazione con Cristiano. Inoltre, si discute del fatto che Georgina non voglia la madre del suo compagno a casa e stia cercando di tenerla lontana dalla famiglia. I. La crisi nella relazione tra la stella portoghese e la modella è stata oggetto di attenta analisi pubblica nelle ultime settimane. Tuttavia, è importante ricordare che Dolore Savero ha smentito tutte le informazioni riguardanti problemi nella relazione del figlio. Definendo tutto come una polemica volta a generare click su internet, è tutto una bugia. Tutte le coppie litigano. Quindi queste sono solo false voci, ha sottolineato la madre di CR7ACM. E con questo si conclude il nostro reportage sulla turbolenta relazione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Restate connessi per scoprire gli sviluppi futuri. Nel frattempo, vi invito a iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi aggiornamenti e le ultime notizie dal mondo dello spettacolo. Grazie per l'attenzione e ci vediamo presto!